Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri talmente era spumeggiante l'Inter salernitana, talmente era vincente, talmente era dall'esito inaspettato che al 65esimo sono corollato. Mi sono addormentato ed è il motivo per cui faccio il video questa mattina parlando dell'Inter e parlando anche un po' della partita del Milan che si prospetta questo weekend contro il Monza. Seguirà, sicuramente in giornata o in tarda serata, vedremo quando lo faremo, un video su quello che ha detto Cardinale questa mattina su Pioli, le parole, conferme, eccetera, che secondo me è tutto relativo anche a quello che vi avevo già detto su Furlani e Ibrahimovic. Detto questo, vi invito a mettere un mi piace al video, a condividerlo, ma soprattutto a seguire gli amici di Sporting Lab, Biglietti VIP in palio per le partite di Serie A ed Europa, dovete solo cliccare sul link che c'è in descrizione e andarle a seguire su Instagram e non perdervi neanche un posto. Oltre ai biglietti poi ci sono tutte le notizie, curiosità, statistiche sul mondo del calcio. Detto ciò, l'Inter ieri non è che vince, stravince, più della partita, poteva finire 6-0 il primo tempo, ma a differenza della partita con la Roma dove ho scritto Inter schiaccia sassi, Inter dominante, oggi dico Inter fortissima, perché l'Inter gioca veramente bene. L'Inter ragazzi, oggi, oggi, al giorno d'oggi, secondo me, dopo il Real Madrid è la squadra che gioca meglio in Europa. oggi, perché il City, un gioco così pam 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 non ce l'ha, eh? Oggi non sto parlando di valore assoluto. È una squadra forse la più in forma d'Europa, perché è in forma veramente l'Inter, però a differenza di domenica scorsa ieri aveva contro il nulla, cioè ieri ha avuto contro il nulla. Ma liberani, dico io, cioè tu arrivi su una panchina, sei la Salernitana, sei l'ultima, hai preso una goleata all'andata da questi qua, sono stra in forma, non fanno turnover perché la devono e la vogliono chiudere al primo tempo, e che fa liberani? Si presenta come un ibrido? Cioè, la Salernitana, che partita ha preparato ieri? Non ha messo il pullman davanti alla porta, perché non era chiusa, non ha fatto un pressing alto, che sarebbe stato ancora peggio, però non l'ha fatto, cercando di offendere l'Inter e di fare qualcosa. No, la Salernitana era in mezzo al campo a fare la presenza a San Zinio, perché è chiaro che se tu non hai né uno schema offensivo, né uno schema difensivo, ma come pretendi che finisca con una squadra che è 50 volte più forte di te? Posto che, anche se avesse messo il pullman, anche se avesse attuato un'altra straggio, avrebbe perso, perché l'Inter è più forte nettamente della Salernitana, ma proprio nettamente, cioè c'è un po' paragone, ma io dico, ma come si può preparare una partita così? Che cosa pensiamo? Siccome c'è Jerome Boateng, non serve mettere il pullman, Jerome Boateng non è quello di dieci anni fa, che infatti si è già fatto male. L'Inter, dal canto suo, ha una squadra con una fame impressionante, cioè l'Inter scende in campo con la determinazione che ti devi chiudere la partita subito. Cioè l'Inter ieri hanno preparato che dovevano vingerla al primo tempo perché poi dovevano fare il turnover al secondo tempo, quindi non volevano rischiare punti, cioè dice mettiamo i titolari, cosa che io ho sempre detto a Pioli. Io ho sempre detto, il turnover va fatto così, al contrario, bravo Inzaghi, perché il turnover va fatto così, tu parti con i titolari, chiudi la partita al primo tempo, e questo significa avere fame, avere determinazione, essere sicuri di farlo, chiudi la partita al primo tempo e poi sostituisci i titolari. Che cazzo cambia di farli giocare gli ultimi 20 minuti che poi stai perdendo e devono fare mezz'ora? E che cambia? Gliela fai fare subito, chiudi la partita e poi li togli. Bravissimo Inzaghi su questa cosa qua. Ma l'Inter riesce a fare questa cosa qua perché hanno una determinazione incredibile. Determinazione che il Milan non ha. Il Milan è la Juventus, ma nessuno ha. Cioè il Milan, la Juventus scendono in campo, sì vinci, però non dai mai quell'impressione che cazzo sei nettamente più forte dell'avversario e lo sfalti. Neanche con Ren, dove siamo dieci volte più forti, io non ho visto quello che ho visto fare all'Inter nel secondo tempo a Roma e ieri con la salernità. Cioè l'Inter scende in campo e ti dice oh qua vinco io e vinco bene. Ragazzi nel primo quarto d'ora potevano fare cinque gol e solo la sfortuna ha determinato che non le facessero. La palla che esce, il rimballo eccetera. Poi la sfortuna ha ripagato col rimballo di Barella e Dunfris che la butta dentro. Ma l'Inter queste partite non le sta vincendo sul campo. Le sta vincendo nello spogliatoio. Questi hanno una fame da Rocky Balboa. Hanno proprio una determinazione che le altre squadre non hanno. Asfaltano gli avversari mentalmente. Adesso si sta creando quello che si era creato per anni con la Juventus. Le piccole hanno paura di andare a giocare con l'Inter. Perché partono già sconfitte e qui ha perso la salernità di Liberani. Detto ciò capitolo Milan. Domani c'è il Monza. Una squadra che mi pare abbiamo sempre battuto da quando in Serie A. Il campo di Monza di sera si può un po' infiammare. Le fatiche dell'Europa League. Ma qui si vede la differenza. Cioè se il Milan scende con quell'appiglio con cui è sceso in campo ieri l'Inter. C'è la stessa differenza che c'è tra l'Inter e Salernan. C'è pure tra Milan e Monza. Un gradino in meno. Non ci sono dieci differenze. Ce ne sono nove. Ma se il Milan scendesse convinto che deve vincere sta partita. Non c'è niente che può vietare al Milan di battere il Monza. Siccome questa cosa non è mai avvenuta da un anno e mezzo perché il Milan scende in campo. Quando è che è sceso determinato il Milan bel che l'hai visto carico due volte da un anno e mezzo. Il derby Milan-Inter 3 a 2 che è sceso consapevole che doveva vincere quel derby per dimostrare che non era stato un caso lo scudetto. E le abbiamo asfaltati per 60 minuti. Poi Calabria ha rimesso in gioco tutto. Quindi neanche lì abbiamo fatti i 90 minuti. E col Paris Saint Germain è sceso in campo con la voglia di dimostrare. Chiaro che non può finire in goleata col Paris Saint Germain. Se tu col Monza scedessi in campo così la partita l'aiuto al primo tempo. Ma io dubito che il Milan scedera in campo così. Io credo che il Monza ci aggredirà nel primo tempo, che noi staremo lì ad aspettare e sfruttando qualche ripartenza, qualche svarione difensivo, proveremo a prenderci i tre punti. Secondo me è importante fare i tre punti. È importante seguire la scia dell'Inter e della Juventus, ma non per lo scudetto. Per evitare quello che è successo con il Napoli l'anno scorso e che si sta ripetendo attualmente. Ovvero che l'Inter, oltre ad essere più forte dell'avversario, non avesse neanche la pressione da dietro di qualcuno che prova ad avvicinarsi. E prendendo in largo veramente parliamo di un Inter che potrebbe chiudere la pratica aprile. E questo non ci conviene in ottica dell'Inter in Champions League. Quindi noi dobbiamo, pensate come siamo ridotti, noi dobbiamo fare il nostro percorso in campionato cercando di avvicinarci all'Inter, non per vincere noi, ma per evitare che loro siano così liberi mentalmente da pensare a vincere anche la Champions League, ad andare avanti in Champions League. Cioè, pensate come cazzo siamo ridotti, in che stagione siamo capitati. E voglio ricordare che il Milan, con la Salernitana, che non c'aveva manco Boateng, che era prima del mercato, è riuscito a prendere due gol e a pareggiare solo all'ultimo minuto. Stava perdendo una squadra che ha preso 9-10 gol dall'Inter. Stava perdendo il Milan. Dice, ma no, ma che può fare Pioli? 4 milioni e mezzo. Dice, ma che può fare Pioli? Due punti con la Salernitana, due punti con l'Udinese, due punti con Legge. Oggi con 6 punti in più, 6 ha un potenziale meno 5 con il derby da giocare. Ecco che cosa poteva fare Pioli. Ecco che cosa poteva fare Pioli. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Seguitemi su Instagram, il link è in descrizione. Sempre Forza Milan!